Cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di oncologia dell'ospedale della Valle d'Itria di Martina Franca. La struttura è stata ristrutturata, ci sono spazi nuovi realizzati anche secondo le recenti norme anti-covid. Dal taglio del nastro presente tra gli altri il direttore generale della ASL Ionica, l'avvocato Stefano Rossi. Ci è dispiaciuto per il disagio che i pazienti hanno dovuto subire nello spostarsi altrove, però ne è valsa la pena. Non si poteva fare diversamente e oggi festeggiamo la riattivazione del reparto, tra l'altro vaccinando i pazienti oncologici che sono qui in cura a Martina Franca. Come stiamo facendo, come abbiamo già fatto nei giorni scorsi negli altri ospedali, domani cominciamo a Castellaneta. La vaccinazione prosegue a tappe forzate, abbiamo fatto i dializzati, ieri anche i detenuti della casa circondariale. Con la riserva ovviamente dei pochi vaccini che arrivano nel momento in cui ne arriveranno di più, siamo pronti ad andare a quel cambio di passo a cui tutti auspichiamo. All'inaugurazione era presente anche il dottor Salvatore Pisconti, direttore della struttura complessa di oncologia medica della ASL di Taranto. Una struttura che consente di avere un'accoglienza ottimale per i nostri ammalati. Non abbiamo mai dismesso però di trattarli, qualche piccolo sacrificio richiesto a loro di venire a Taranto, ma non è stata mai impedita alcuna terapia. Adesso ritorniamo, tra l'altro ritorniamo non solo in una sede più accogliente, nuova, che dà maggior conforto, ma anche arricchida di professionalità, perché abbiamo voluto anche mettere in organico una psiconcologa che sarà fissa per tutte le necessità, ahimè, che i nostri pazienti e anche le famiglie dei pazienti stesse richiedono l'assistenza stessa psicologica. In rappresentanza della Regione Puglia, l'assessore Donato Pettassuglia. Si riconsegna l'oncologia che è un grande segnale, non solo perché è il venerdì santo, non solo perché si fa il vaccino ai malati oncologici, ai loro familiari, a chi li assiste, è un grande segnale in questa giornata. È importante che è un servizio per Martina e tutto il presidio della Valle d'Itia, con i comuni che afferiscono qui, ma devo dire anche per il supporto che Martina dà a Taranto in termini di utilizzazione degli spazi per dare un servizio a tutta la popolazione.